Buongiorno a tutti, siamo qui al servizio Passepartout di Torino per il seminario sulla vita indipendente organizzato dal Movimento Liberi di Fare. Abbiamo ancora con noi ospite l'assessore al welfare della città di Torino, Sonia Schellino, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno. Le chiederei, parlava di diritti in fase di presentazione, è stato uno dei punti forti su cui avete puntato molto, quindi le chiederei di riassumere l'impegno della città di Torino per i diritti e soprattutto sulla vita indipendente. L'impegno della città per le persone con disabilità è quello di dare a loro la possibilità di sentirsi esattamente come gli altri, quindi sia dal punto di vista dell'investimento economico, sia dal punto di vista dell'impegno delle persone è stato fatto un investimento importante. Continueremo così, nonostante l'eventuale carenza di risorse, che come si sa in questi anni colpisce tutte le amministrazioni, le persone con disabilità si devono sentire esattamente uguali agli altri, è un percorso non facilissimo perché vuol dire far sì che una città sia molto smart, sia a misura di qualsiasi persona, anche con delle difficoltà temporanee o definitive, anche per una mamma col passeggino un gradino può diventare un ostacolo, anche se non c'è nessun tipo di disabilità in questa situazione. Dobbiamo fare in modo il più possibile che le nostre città siano completamente vivibili e le persone con delle difficoltà e con delle disabilità possano sentirsi uguali agli altri e vivere una vita appunto indipendente. Una delle cose più importanti nel sociale sono le idee e non sentirsi soli, quindi l'importanza della rete e della coprogettazione. Quanto è importante questo aspetto? Ma è importantissimo perché a volte ci sono dei fondi ma non c'è l'idea giusta e senza l'idea giusta si può sprecare o si possono consumare dei denari facendo delle cose che non vanno al di là di quel singolo investimento. Invece con delle buone idee un investimento può essere il volano per cambiare veramente la faccia di una città. L'importante è cercare di coprogettare insieme alle persone che vivono la difficoltà perché loro sanno di cosa c'è bisogno. L'idea, la capacità di sviluppare delle idee, di sviluppare innovazione è un talento molto importante. Guardiamoci intorno, chi ha qualcosa da proporre lo faccia e il compito dell'amministrazione è valorizzare tutte le idee e investire per realizzarle. Come ultima domanda le chiederei di svestire per un attimo i panni istituzionali e entrare in quelli di cittadina. Che cos'è per lei? Qual è il significato di vita indipendente? Il significato è che una persona si senta assolutamente uguale agli altri ma che anche gli altri la percepiscano come tale. Una vita indipendente è poter fare quello che desidero nei limiti, però ci sono limiti e limiti. I limiti di non poter attraversare una strada da solo perché non ho gli strumenti per farlo, il limite di non poter cucinare in casa mia è un limite che dobbiamo cercare di superare tutti. Poi ci sono i grandi limiti e ognuno fa il possibile per superarli e speriamo. Non tutti saranno superati, questo dovremo rendercene conto, ma tutto quello che è possibile fare sia come cittadini, come amministrazione, anche con un occhio all'aiuto reciproco. A volte basta veramente poco per dare una mano a una persona ad essere esattamente come un'altra. Quello come cittadino lo possiamo fare tutti. Grazie mille, buon lavoro.